Ciao, sono Asia, sono la labradorina un po' piritina, ma anche molto tenera. La mia padrona si chiama Daniela e le voglio molto bene, anche se ogni tanto la faccio un po' disperare. Poi c'è Wilmino, che mi occupa a te di peluche preferito. Guardate, ora ve lo presento. Questi siamo io, Wilmino e la Daniela. Mi piace un sacco farmi fare le coccole. Io mi metto per terra apposta per farmi fare le coccole dalla Daniela e da Massimo, e soprattutto le coccole sul pancino e nel collo. Ho anche una vita che si chiama Rugina, che è una carta rugatera. Però adesso è il letargo che fa la nonna. E' andata a dormire a novembre, nella sua casetta, e fa la nonna fino a marzo. Questa è lei che fa la birchina. Eh, ma non inquadratemi sempre mentre dormizio. Uffa. Non è bello per una signorina come me? Su, 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 su. Ecco, così va già un po' meglio. Sono molto buona e giocherellona. La macca sulla neve, con la pallina. Mangiare le crocchette. Fare i petosini. E soprattutto, scolinsolare.